Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 1624esima puntata di Eurotrack Simulator 2 Allora ragazzi, non ho messo la webcam perchè finora era brutto tempo A dirvi che ora sta cercando di uscire un po' di luce, quindi provo a mettervela, dai Ok, messa Un po' scura, eh Però non c'è molta luce fuori Ehm, registrata un po' tardi Cinque e mezza, di solito registro circa due ore prima Allora ragazzi, cosa parliamo oggi? Dovrebbe essere martedì Oggi se tutto va bene Dovrei a quest'ora che vedete il video Essere, spero, già rientrato da Roma Abbiamo un viaggettino a Roma, questo video come al solito vi ho registrato sabato Abbiamo un viaggettino a Roma In copia con un mio collega Oltretutto con questo camion, non io, il mio collega Ehm Niente, quindi spero di essere già a casa sinceramente Perchè sono partito lunedì a luna E quindi Spero di essere a casa Allora, novità, cosa vi dico? Cosa vi dico? Boh Teoricamente venerdì Per voi che vedete il video Quindi il 15 aprile Se lo state guardando anni dopo Perchè capita della gente a volte che guarda il video anni dopo Mi... dovrebbe arrivare il mio camion Semidefinitivo Perchè mi durerà poco Ehm Mi verrebbe da dire per fortuna Mi durerà poco In cambio nel noleggio Dovrebbe essere anche questo un DAF E... Nella realtà ovviamente parlo Io vi dico così E non vi posso dire altro Però... Ehm Che sarà, diciamo, il mio abbastanza fisso Per qualche mese Quindi... Questo qua adesso Lo sto usando ancora l'ultima settimana Che è questa Poi appunto venerdì Che poi non so quando lo userò Se mi capiterà di usarlo già venerdì Non credo Se sabato O poi lunedì No, lunedì no Perché sarebbe Pasqua Martedì Cacchè lì martedì Ehm Venerdì di nuovo c'è il fermo alle 2 Mi sembra E martedì alle 2 Del pomeriggio Fino alle 2 del pomeriggio Dalle 9 alle 2 Cosa... Cosa fai? Tu parti alle 2 del pomeriggio E dove vai? Da nessuna parte E vabbè Ehm Piano Piano Andiamo a ribaltarci Per quanto riguarda video veri Che mi richiedete sempre Io Appena possibile Cioè appena possibile Vorrei farveli Ad il vero Volevo provare a farne già uno Una giornata Ma poi Diciamo che è stata una giornata Un po' grigia Perché Ehm E' cominciata che Devo andare in un posto Sono arrivato lì Invece Quello dove dovevo andare Devo andare in un porto In realtà dovevo andare in un altro porto A Una cinquantina di chilometri di distanza O forse 50 chilometri No Comunque In un altro porto Sempre in Liguria Però in un altro porto Sono arrivato là E' stato un po' un casino Perché io non ero mai stato in quel porto Ci volevo una tessera Fai la tessera Non sapevo Non ce l'ho mai stato Quindi Quando vai nei porti E' sempre un po' incasinato Ehm Non sapevo dove andare Vabbè Oltretutto Ho beccato colonna A andare E poi Coda un po' Non colonna Però un po' A tornare Ehm No Ma porca mia Piano Ehm E niente Questo per Beh forse dai La riusciamo a fare un giretto Poi sono andato In un altro porto Dovevo ritirare un container Prendere un container Mamma mia Un macello Perché non Anche lì In quel porto lì Ce l'ho stato solo Una volta Con Col titolare Diciamo Con il mio capo Che Lui lo conosce bene Il problema è che Ma 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 Ha fatto fare il giro Mi ha detto Qui c'è questo Qui c'è quello Qui c'è quell'altro Ok Il posto Sapevo dove andare Sono arrivato Il problema Era fare tutte le Le Documenti Tutte le cose Anche lì serveva una tessera Che io ovviamente Non avevo Quindi è stato veramente Un macello Poi Per quanto riguarda Era un container Che doveva fare Dogana Io Non sapevo niente Di quelle cose lì Insomma Una giornata un po' Incasinata Andiamo E Sta di fatto Che per prendere Quel container Sono stato lì Dalla mattina Mezzogiorno Circa mezzogiorno Fino alle Cinque Erano Naturalmente Un casino Un casino Un casino Infatti i container Mi hanno fatto subito Una brutta impressione Ho detto Spero di non farne più Poi Pian piano Facendoli Si impara Credo di qua Si scrivessero i nomi No M40 Tutti i numeri D'autostrada Che non Ne so niente Vabbè Facendoli si impara Sicuro Già adesso Ne so molto Molto di più Di prima Perlomeno Non ero mai entrato In un porto Non sapevo Come si fa Tutto Non sapevo Perché Serve da fare La tessera Vai lì Ci sono degli uffici Poi non Non ce l'ho mai stato Non sapevo niente Comunque Mi ci sono un attimino Girato Ora poi I prossime volte Dovrebbe già essere meglio E peraltro Basta Quella lì era la giornata Che Ma quasi quasi Dovrebbe essere Una giornatina tranquilla Quasi quasi Mi piacerebbe pensare Mi è balenata L'idea di fare un video Va già bene Che non l'ho fatto Perché E niente Altro poi Cosa vi racconto Che Comunque Questi giorni Cioè questi giorni Già Mi è già successo Un paio di settimane fa Che parlavo Con un Con una Che Sicuramente non so Che posizione Ricopra Però all'interno Di una Diciamo Questa dita qui Che Tra le altre cose Come sempre Per quanto riguarda Porto Ha anche Una sezione di trasporto Fa autotrasporto Container Sempre Nei dintorni di Genova E a Genova Che poi posso anche dirvelo Perché Non penso sia segreti Gruppo Spinelli Quindi Spinelli trasporto Insomma Che mi diceva Questa qui Penso che sia qualcuna Mezza abbastanza importante Perché L'ho beccata Mentre caricavo lui Al loro Al loro Piazzale Al loro termine Insomma Girava con l'Audi Col SUV dell'Audi Non mi ricordo Se fosse un Q3 Un Q5 Cosa fosse Ma poi La vedevi vestita E poi Se mi ha detto così Non penso sia L'ultima delle impiegate Cioè Sicuramente Non erano Una delle impiegate Mi ha detto Ma Mi ha chiesto Se ero nuovo Lavorare Per Per il mio capo Perché si vede Chi lo conosce E mi fa Eh anche noi Stiamo cercando Conosci mica Dei ragazzi giovani Eh Anche senza patente Che li facciamo Prendere noi Perché mi ha detto Ha 40 macchine 40 Camion fermi Che hanno preso 40 camion nuovi E sono fermi Perché non hanno Gli autisti Quindi Se cercate Il lavoro Anche senza La patente Ha detto che Ve la fanno Prendere loro E che non è poco Non è poco Qualcuno Che ti trova Che ti dice Ti faccio Prendere la patente Io Sapete che Ma comunque Adesso Per quel poco Che sto girando Io Ne senti Ovunque vai Ne senti Che cercano Ovunque vai Ora Ce n'è un'altra Che cerca Veramente Tantissimo Però Di questa qui Che vi ho appena detto Non ne so niente Quest'altra Non ho sentito Parlare benissimo Quindi Di conseguenza Neanche la nomino Non perché Ma perché Ho detto Che non ne voglio Sentire parlare bene Poi magari la nomino Evitiamo E Comunque Un sacco Adesso Stanno cercando Sempre Vabbè Vabbè Dove devi entrare Mi sarei dovuto Allargare di più Vabbè Ci passiamo Sì ci passiamo Ci passiamo Sono andato sopra di qua Mamma mia Una volta Non le facevo Ste cose Una volta Ero Bastanza decente A giocare Eurotrack Ora Si vede che Giocandoci meno E tutto quanto Sono peggiorato Tantissimo Ah se tanto Mi da tanto Là bisognerà Andarci di retromarcia Quindi Facciamolo subito Ci togliamo Il pensiero Di andarci là Di muso Venirci indietro Girarci E andarci là Altro Ci troviamo Anche carri alzati Non perché Non me ne sono accorto Adesso Della spia Ma perché Non ci ho fatto caso L'ho vista Certo Allora Lo vorranno Di fianco a questo Secondo me Non era proprio così La cosa Secondo me Potevi fare il giro E poi A seconda della ribalza Che lo voleva Non vennerlo a mettere Però Vedo che A quanto pare C'è A parte Vabbè Questo qua Ma c'è Che è uno Di quei Col pavimento Scorrevole Lì C'è anche Un Un ribaltabile In ribalta Un ribaltabile In ribalta Attenzione Ora Va bene tutto Ma Come ci riesco Io poi Perché la ribalta Mi sembra Alquanto Attaccata A quell'altra Penso che Gli vada bene Così Mi sembra Di esserci Quasi contro Capo Quanto Devo andare Invece Perché poi Siamo stortissimi Ma va bene Se siamo al centro In realtà Saremo un po' Storti Neanche tanti Parte che sono Larghissime Ste ribalte Ma va bene Scarichiamo Che cosa Qua Radiatori Va bene Scarichiamo I radiatori Ok Ritardo Eh vabbè dai Ritardo Pazienza Mi avete anche chiesto Che camion farò Dopo di questo Non lo so Sinceramente Penso che ancora Per questa sessione Di registrazione Quindi questa Mamma mia Settimana Andremo avanti Con questo Poi si vedrà Sicuramente non so Dove andare In Svezia Mi piacerebbe Veramente tanto Andarci E' da tanto Che non ci andiamo Così Tendiamo in Svezia Cavolo però Ma si Ma che ci frega Andiamo in Svezia Carico leggero Ci danno 50 euro A chilometro Attenzione Signore Signore 50 euro A chilometro Cioè Nella realtà Ti dicessero Che ti danno 50 euro A chilometro Vabbè E' una cifra esorbitante Penso che In tutto L'autotrasporto Di Cose Semi Normali Difficilmente Super il 1,50 Poi se vabbè Magari fai cose Qua c'è L'obbligo Di andare di là Cose tanto specifiche Trasporti eccezionali Non lo so A parte che Mamma mia Che Che macello Che faccio Ma qui passa dentro Un'altra ditta Se poi fai cose Tra particolari Trasporti eccezionali Non lo so Ma se no Ok Fermiamoci qua Che chiudiamo la puntata Io ragazzi Vi ringrazio tantissimo Per la visione Da Adane è tutto Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti